in questo video parleremo di marco guzzi marco guzzi è stato uno dei miei eroi però come avviene ormai spesso tutti questi eroi prima o poi mi abbandonano diciamo cioè non è che mi abbandonano nel senso che trovo una un qualcosa che non va con loro che ti poco conto ma proprio l'opposto cioè mi hanno fregato diciamo e quindi con tanto rammario con tanta disperazione scopro che anche marco guzzi mi aveva mi stava fregando andiamo avanti adesso io farò una raccolta di spezzoni così per raccontare questo personaggio partiamo da lei l'idea è quella di andare a capire qual è questa nuova umanità che sta nascendo quindi la parola chiave ragazzi questi vi ricordate come faceva berlusconi no che diceva via con i politici io sono un imprenditore so come far funzionare le cose e alla fine scopri che non è cambiato niente ragazzi cambiano solo il vestito cambiano solo i nomi dei partiti ma non cambia mai la musica anzi va sempre peggio siamo in un processo di svolta antropologica svolta antropologica ragazzi stiamo per diventare con cinque mani sei mani ma dobbiamo ancora capire di che cosa si tratta e che dobbiamo capire quindi c'è un po c'è bisogno di un po di tempo ragazzi una rivoluzione antropologica è emerso dai nostri seminari e con l'unica umanità possibile che appunto sostenibile è quella relazionale razionale capito ragazzi loro parleranno noi e voi parlerete con loro cioè che mette in rete le persone non solo in rete nella rete diciamo telematica ma anche nella nella realtà nella anche nella realtà ragazzi in maniera rivoluzionaria il nostro di maio sta proponendo un contratto su temi che vanno ad innalzare la qualità della vita degli italiani qui stiamo per rivoluzionare la qualità della vita degli italiani quindi immaginate il trucchetto che stanno facendo questi sono dei maghi stanno facendo il gioco delle tre carte e tu ci caschi pensi che potrai vincere contro loro ma loro sono maestri c'è anche quest'altro clown qua paragone paragone capito tu dici lo vedi così come un rocchettaro no non è un giornalista ma lui lui è uno come noi dai come fai a non fidarti di uno così quanto è importante la critica al potere al sistema dominante sistema dove loro non sono sistema dominante proprio per l'elaborazione di un pensiero critico applausi che parte da uno così che proprio incida tutte le altre pecore che sono ragazzi dobbiamo applaudire anche se state sbadigliando fateci il caso ragazzi molte volte questi attori non si non riescono a guardarsi negli occhi ragazzi e lì capisci che stanno cazzeggiando stanno vi stanno prendendo per il culo tu ti immagini una persona così rivoluzionale che sta dicendo cosa rivoluzionale così con questo tono così calmo con questi sorrisini del cazzo questi occhi abbassati vuoi vedere un discorso rivoluzionario guarda metti scrivi qua su su youtube sankara e guarda cos'è rivoluzionario non queste checche del cazzo dico subito una cosa che non parlo da senatore parlo ancora da da giornalista da provocatore e quindi non ci volevo venire non ci volevo venire perché i dibattiti non li sopporto più da da tanto tempo quando qualcuno mi invita come moderatore dico guarda o mi pagate profumatamente oppure non vengo a perdere tempo perché capito se mi i soldi ci vado a proposito o mi pagate profumatamente oppure non vengo perché se il senatore così rivoluzionario dici no mi devono pagare per andare lì quindi io posso fare la puttana posso fare la prostituta e anche se non parlerò però se mi date i soldi io ci vado perché non vogliono che si rifletta su un concetto che non è né antico né moderno è un concetto di di realtà è un concetto di 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 dignità paragone non ha studiato bene la parte paragone stai rischiando un altro si potremmo mettere un altro attore lì e comunque non deve mai ledere la dignità del cittadino lavoratore perché la parola chiave è la dignità fantozza capito questo è fondamentale dignità rispetto valori amore tutte parole che usano durante la loro ipnosi i politici destra sinistra no ma alto basso elite popolo hai capito cambia tutto l'urna elettorale italiana ma adesso parla a quando la conoscenza entra appunto nella rete diventa una proprietà della rete e la persona più intelligente in una stanza è la stanza stessa ma scusi ma non riesci così a pelle a capire che cazzo ma dalle immagini come come un cerevara con un sankara questa 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 fighetta così tutta elegante è andata lì tranquillamente senza un graffio in in parlamento la possibilità di creare una conoscenza attraverso una rete di persone una rete insieme di punti che si appoggiano su altri punti trasforma la conoscenza in qualcosa che non include non è più una piramide sono più gerarchica è la possibilità di creare nuove conoscenze che possono prendere forme totalmente inaspettate perché attraverso la rete la condizione di conoscenza ed è ovvio che quando si altera il medium quando si modifica il medium attraverso noi condividiamo il sapere si va a alterare anche la natura stessa della conoscenza ed oggi il dibattito aperto è in qualche modo quello che contrappone qua le utilizziamo due categorie quelli che vengono definiti i luddisti e i tecno entusiasti ma quelli spesso noi siamo resistenti al cambiamento ecco ragazzi noi siamo resistenti al cambiamento perché perché resisti pecora entra qua dentro questo testo racconta che una studiosa di storia delle tecnologie dell'università di harvard studiando appunto lo sviluppo nel periodo diciamo dello sviluppo della pratica ferroviaria si accorta che in quello stesso periodo adesso sta dicendo che anche prima quando hanno inventato il treno la gente era un po così sospettosa allo stesso modo quindi oggi la gente non guarda con sospetto le tecnologie invece no schiavo tu devi usare le tecnologie perché è un nostro piano per incappiarti sostenevano che il treno portando un individuo a oltre 30 chilometri allora avrebbe spezzato le ossa e quindi vi era in quel periodo un proliferarsi appunto come dicevo di una letteratura che portava a creare una paura di questo profondo cambiamento lo stesso avvenne quando comunque il testo il libro divenne tascabile le persone iniziarono a poterlo portare in tasca e questo divenne uno strumento particolarmente potente i leader politici e i leader religiosi iniziarono a capire che fino allora avevano detenuto la conversazione shut up quindi loro stanno cambiando rivoluzione antropologica horror theory perché secondo voi tante persone dedicano per esempio molto tempo a mettere dei video su youtube a scrivere un blog e magari hanno una passione più forte in questa attività piuttosto che nell'attività lavorativa per la quale sono attenzione ragazzi adesso lei sta dicendo che praticamente noi abbiamo fatto tutto questo questa realtà il movimento 5 stelle così dal basso senza nessuno nessuno ci ha pagato a proposito di valore dei soldi se fosse in realtà una motivazione esterna legata ai soldi a riconoscere non è esterno nessuno ci mette i soldi in tasca non sarebbe mai nato neanche il movimento 5 stelle che si basa solo sulla gratuità sulla generosità sulla volontarietà questi sono i rivoluzionari i rivoluzionari hanno il fiato della morte dietro al collo tutto il tempo non sono questi questi sono whores che vogliono sentirsi competenti quindi qua ti sta dicendo di wikipedia ragazzi noi abbiamo fatto il movimento 5 stelle tutti insieme uniti così gratuitamente tutto anche wikipedia ha lo stesso spirito diciamo qualsiasi persona anche dall anche dal basso diciamo può andare lì e scrivere un articolo quando noi sappiamo benissimo che non è vero non puoi scrivere l'articolo su wikipedia che pedia è controllato ed è perfetta perché in questo modo è anonimo no tu non puoi vedere chi è quell'utente lì che che scrive modifica al potere di cancellare per esempio un articolo qualcosa di su wikipedia è una cosa così proprio da mafiosi proprio non puoi vedere nessuno non puoi parlare con nessuno loro decidono quello che c'entra quindi vivendono questa questo sogno che a parole è bellissimo però in realtà non funziona nessuno perde energia e si si fa il trucco si fa così bella per niente ragazzi e tu non paghi niente paghi tutto paghi tutto quando vedi tutta questa eleganza la paghi non è gratis sveglia sentiamo la con come apre guzzi guarda guzzi guarda il ribello è tutto elegante così siamo fatti noi umani ecco lui ci dice come è fatto l'umano a noi non basta è fondamentale il denaro per carità di dio ecco se lo sappiamo non scherziamo è rivoluzionario no lo dico a te lo dico a te perché so che ci tieni molto guarda tu lo capisci una persona perché certe volte gli sfugge qualcosa e quando io adesso muovo i frame detto detto guarda che faccia guarda che faccia lui ha un canale youtube no e quindi per anni prima che nascesse il movimento c'è questo e lui per anni è stato lì buono buono a raccogliere polli come ha raccolto me per esempio democrazia ragazzi democrazia democrazia significa la legge del più forte così ci hanno fatto cascare anche noi in albania tutti noi del paese dell'est no e così ci hanno cacciati via dalle nostre terre siamo venuti qua con la democrazia la democrazia significa che il popolo vota e quindi significa che loro per far votare quello che vogliono loro basta che comprano i politici semplicissimo è un trucco per far per non cambiare le cose perché in comunismo c'era un'elite che stava alle spalle del popolo democrazia c'è un'elite che sta alle spalle del popolo no ecco guarda come si fugge la loro faccia da esperto no ecco ecco la faccia da esperto questa la faccia da esperto ragazzi come fai a non credere così sentiamo questo concetto della democrazia no una bella immagine da lanciare qui in questo bel luogo che è il parlamento vai perché noi dobbiamo valorizzare ridare alle istituzioni democratiche il loro fascino fascino ragazzi il loro fascino dei corrotti vai rivoluzionario perché la democrazia è un movimento rivoluzionario è certo però rivoluzionario per voi non per noi sveglia ragazzi nessuno ha mai regalato niente ragazzi abbiamo a che fare con mostri la costituzione italiana è in realtà uno scritto continuamente nuovo calcolate quindi che dei massoni hanno scritto quel pezzo di carta e loro dicono la costituzione è un qualcosa di spettacolare che praticamente dice la repubblica si basa sulla schiavitù sul lavoro abbiamo vissuto tutti come dei fantozzi no possiamo dire che c'era qualcosa che non va no col sistema che ha creato tutti questi miliardari e ha creato tutta questa gente che muore di fame oggi eppure eravamo sotto quella costituzione così bellissima forse la vera costituzione sarebbero i comandamenti invece libero in questo senso ed è libero anche di trasformare l'uomo è libero di trasformare il mondo capito? a bocca a bocca interiore ed esterno ecco darsi pace significa iniziare adesso un cammino di trasformazione che ci renda liberi dalla dittatura del mondo materiale aveva una trasmissione radio RAI e quindi ha fatto il lavaggio del cervello agli italiani per anni come fa uno a essere sempre dentro al sistema camminando continuamente però sto sempre là dentro sveglia ragazzi cultura dominante sembra volerci bloccare ecco invece voi ci libererete che un mostro la cosa bella è che lui fino a in molti video dice che non ha un cellulare però ci spara tutte queste belle cose che parlano bene della tecnologia mentre purtroppo quello che spesso vedo e sento è uno spirito intimidito come se l'uomo avesse paura delle macchine che lui stesso ha creati ma perché hai paura uomo delle macchine non sono invasive per niente c'è adesso il 5G che ti sta per cuocere e non avrai più freddo ci sono le tecnologie come Wikipedia che indipendentemente senza soldi senza niente ti dice la verità ma ti abbiamo cambiato tutto prima prima eri libero potevi fare tutto con le tue forze adesso devi aspettare il reddito di cittadinanza ma scusa ma è un cambiamento epocale antropologico rivoluzionario però io credo che se non ci intoniamo in partenza allo spirito giusto ecco capito non vi mettete in testa che non avremmo questa tecnologia perché il web è a calci quindi lo spirito che crea tutte le cose in questo momento e che ha creato anche questo microfono quindi anche le tecnologie non è che sono cadute dal cielo non è che sono niente dai naziani non c'è nessuno scopo così nascosto indietro a questa tecnologia sono cose che abbiamo scoperto così per caso e ce le abbiamo le stiamo usando sono state create dallo stesso spirito che in questo momento sta parlando certo e che quindi non dovrebbe avere paura delle sue produzioni no? perché se no vuol dire che è debole si sta indebolendo sei debole se non ti piace la tecnologia schiavo essere nati in quest'epoca è un dono prezioso mamma mia che non lo senti e lo dico specialmente ai giovani senza lavoro senza futuro non si dividire dalle cornacchie della cultura dominante capito? adesso lui sta facendo magia va tutto bene schiavo va tutto bene dal narcisismo di una cultura dominante che pensa solo a se stessa ma scusa ma stai tu al potere vuole dare questa idea capito? loro sono i capi loro chi? se esatto noi siamo gli unici esseri che conosciamo a fondo che adattano l'ambiente a sé vedete? noi abbiamo adattato l'ambiente abbiamo costruito questa strana scatola siamo dentro una loro sono i mostri i predatori diciamo ci sono questi lupi noi siamo questo gruppo di pecore siamo molti più di loro però ecco diciamo questi sono i malati di menta ragazzi che odiano e l'hanno è una cosa storica io l'ho scoperto solo recentemente e adesso ho capito che la guerra è spirituale ragazzi e attenzione perché adesso è in tema tutto questo perché lui passa per un cristiano ragazzi scatola non è che sia quindi qui sta dicendo migliorare quindi la creazione ho scritto io qua quindi per loro quello che ha creato Dio ora partiamo perché qui bisogna partire ovviamente da dare basi a noi ci hanno messo in testa questi malati di mente amici suoi questi malati di mente che controllano il mondo ci hanno messo in testa che noi siamo dei semplici sassi che lasciate questi sassi con il tempo per miliardi di anni hanno creato l'essere umano una cosa così complessa e tutto invece la realtà è che tutto questo che vediamo il corpo umano che è talmente complesso che uno ha una idea è stato creato e quindi loro siccome odiano il fatto che Dio ha creato tutto questo infatti lui adesso dirà che tutto questo è l'universo questo è un cristiano che dovrebbe leggere la Bibbia e non credere nell'evoluzione nel Big Bang cioè che il niente è scoppiato che non ha neanche senso quindi la tecnologia ragazzi questa è la parola che ha vogliono farci capire che noi l'uomo migliora il mondo migliora migliora quindi quello che ha fatto Dio non va bene ricordiamoci che se questo pianeta è diventato un inferno adesso è per colpa dell'uomo e soprattutto per colpa di questi uomini e quindi con la tecnologia loro vogliono migliorare la creazione di Dio perché non gli piace non gli piace loro vogliono essere eterni vogliono creare macchine e tecnologia per vivere in eterno non è che ci possiamo non possiamo togliere questa gabbia che stiamo creando non fare l'antico diciamo non fare l'ignorante dire come si stava meglio quando non c'era internet questo soltanto le vecchiezie rimbambite lo dicono che notoriamente i nipoti deridono e compatiscono capito una persona anziana viene derisa dai 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 giovani i giovani sono i saggi e le persone anziane sono dei coglioni per lui io non ho mai avuto questo spirito io a vent'anni certo tu non hai mai avuto un cellulare hai sempre amato la tecnologia si creda che basta ecco non vi credete che per fare questo che faccio io sia semplice sono io l'esperto voi non siete niente basta stare un'oretta su google fare due tre ricerchine di due tre articoletti su un qualunque argomento e di poterne discettare alla pari con chi magari ci studia da trent'anni perché ha capito io sono io e voi non siete un cazzo carità niente di male io sono abituato ho fatto la radio radio 2 la radio popolare non è che faccio lo schizzino a me piace parlare con tutti certo come no di tutto certo però che si abbia un po' la consapevolezza che i temi poi con chi hai a che fare sono complessi sono complicati se ne vuoi parlare con una certa serietà devi anche avere l'unità di questa la chiamano democrazia ragazzi questi sono gli esperti guarda come sono bravi a dirti che la gabbia è libertà confrontarti con chi ha approfondito e approfondisce queste cose da tutta la vita ma certo ma non del senso di autorità nel senso di dire tu devi fare quello che voglio io quello che voglio io no l'autorità è la capacità di dare vita l'autorità viene da auxamen ecco te butta la palparellone e tu stai muto a quel punto K sono parole che vogliono dire alimentare fare crescere autorità ti fa crescere l'umano ti dà da mangiare quello autorità però però se sei posti per fare il capo sono così a numero chiuso come facciamo misconoscere anche questo per presunzione infantile non fate gli infanti ragazzi rifiutarsi di nutrirsi e di farsi nutrire è un grosso pericolo grande pericolo di falso sapere aggravato dal fatto che tutte le cose sullo schermo medesimo possono apparire appunto uguali ecco ma non sono perché le incontri nello stesso modo le vedi nello stesso modo capito attenzione a quelli che sembrano esperti ma non lo sono tipo io adesso vi sto dicendo le cazzate chi sono io invece lui è un esperto guarda com'è elegante tutto quanto col microfono da sala convegni e tutto insomma tutta un'altra cosa ragazzi non è che chiunque può entrare lì così queste sedie così con queste decorazioni così è un suo prezzo ragazzi e tu non ti puoi permettere tu che puoi che vuoi parlare di vaccini oppure del fatto che ti stanno ammazzato no non è per te questo non te lo puoi permettere schiavo vai via tu sei fake news puoi pensare che paperino e aristotele siano uguali capito io sono paperino perché le incontri ha lo stesso modo io che non è che sono un uomo dell'ottocento ma sono un uomo del novecento ma in realtà sono un uomo del ventunesimo anzi del ventiduesimo secolo lui è del ventiduesimo secolo ragazzi poi ce lo spiegherà però non ha senso però tu rimani con questo così ti ipnotizzano questo ventiduesimo secolo però anagraficamente sono del novecento attenzione se volevo studiare aristotele o mi compravo un tomone magari in greco e passavo che ne so due anni a cercare di capire la prima riga credo che è tutto complicato perché l'uomo è tutto nascosto per questa idea che è complicato l'informazione è sempre stata in mano a questi malati di mente che non volevano trasmetterla a tutti e lo dicevano loro stessi in questi libri che non possiamo scrivere per i coglioni per i schiavi che non capiscono sono predatori ragazzi anche tutti i pensatori che abbiamo sono dei predatori non hanno mai pensato di aiutare l'uomo ma sempre di fregarlo e se non hai delle categorie di gusto e di conoscenza per discernere hai capito tu non puoi gustare da solo devo gustarlo io per te dirti se è buono o no come fai come fai a discernere la boiata dell'ultimo blogista che ti fa una citazione ridicola dell'aforisma di eraclito come fai a distinguere come fai a capire che quello è eraclito cioè uno che ti sta dicendo una cosa che ti può servire per tutta la vita e questo è un poveraccio che ha letto questa frase dentro il bacio per Cina ecco io sono il poveraccio che ha letto questa cosa nel bacio per Cina non hai gli strumenti per distinguere ma se non hai strumenti per distinguere il sapere sei un pollo quindi adesso l'abilità di questo sistema consumistico ecco capito loro hanno creato un sistema consumistico loro attenzione è sempre una cosa astratta il sistema l'hanno fatto loro stessi e il cambiamento è un fake cambiamento è un cambiamento finto che presentano loro stessi però per fartici credere per farti credere che sono dalla tua parte devono dire che tutti i mali del mondo sono stati creati da questi malati di mente e noi li risolveremo come li risolveremo? togliendoti a te guardate che ci vuole che ci vuole convincere ogni giorno di più a comprare cose sempre più inutili e nocive non solo fa male a me a noi alle città noi abbiamo sporcao troppo siamo dei sporcaccioni quindi se c'è quello sporco là è perché loro non fanno quello che devono fare cioè fare le multe salatissime se becco qualcuno che butta 30 anni di carcere fine basta quello che butta più niente però non lo fanno perché quindi è un piano è un piano tutto questo inquinamento che fanno questi malati di mente però siccome sono malati di mente l'inquinamento è proprio drastico c'è roba radioattiva ormai sottoterra perché loro sono malati di mente un malato di mente non ha problemi di mangiare sano ragazzi immediatamente quindi se consumi schiavo guarda che succede causi l'immigrazione dice guarda tu buttando l'inquinante facendo sta cambiando il clima e siccome adesso è cambiato il clima e in Africa fa più caldo loro non avendo più terreno per crescere il cibo vengono da te capito non è che sono stati loro che li hanno mandati via con guerre e non facendo funzionare il sistema Sankara quello che ti ho detto prima era un presidente che praticamente stava cercando di fare tutto con le sue forze e aveva fatto vedere che si poteva fare l'hanno fatto fuori ragazzi il centro Africa mostro vai mostro producendo una desertificazione crescente certo mostro che a sua volta produce migrazioni crescenti certo mostro e quelli poi te li trovi a casa capite? è un giro questo vuol dire una coscienza come la tua se continuiamo così senza fare niente se continuiamo così nell'arco di pochi anni intere regioni della terra saranno o desertificate o sommersi e i nostri figli passeranno gran parte della loro vita a fuggire da situazioni critiche attenzione ragazzi perché questa cosa che sta dicendo sta avvenendo loro non vogliono che la gente abbia per esempio una casa in campagna e viva tranquilla con le proprie forze loro vogliono controllarci proprio come un campo di concentramento quello sarebbe l'ideale per loro guardate come sono state bruciate queste case in California praticamente non c'è rimasto più niente allora questa è una macchina completamente fusa l'albero non toccato non sfiorato guardate in che modo ci sono case completamente intere integre perfettamente non bruciate e case completamente demolite decada è questa il fuoco si è fermato così miracolosamente qua ci sono armi i militari lo dicono che hanno a disposizione ormai queste armi che possono concentrare energia elettrica laser e bruciare dall'alto con satelliti con qualsiasi droni qualsiasi cosa la cosa bella è che questo raggio non si può neanche vedere e riescono a fare cose del genere guardate l'inferno guardate come se si è fermato il fuoco qua alberi integri non bruciati queste ville ragazzi erano in una parte interna della California e loro vogliono spostare tutta questa gente non vogliono che la gente sia in questi boschi perché li vogliono controllare loro vogliono togliere potere ricchezza alle persone perché in questo modo una persona che non ha niente è più facile da controllare perché non ha più niente farebbe di tutto quindi come hanno fatto a fare questa cosa qua prima sparando laser potentissimi è una roba incredibile ragazzi ma nessuno le dice queste cose non sono fotomontaggi ragazzi perché si vedono anche gli alberi che sono stati bruciati completamente così come una linea retta mentre mentre quei clown li vi tengono vi distraggono con le belle parole intanto succede questa roba qua questo alluminio sciolto ragazzi qui diciamo il laser gli è sfuggito un po' di mano hanno preso l'albero così e si trovano questi alberi bruciati solo così all'interno ah qui c'è questo pezzo di Rai 3 ragazzi ma io non so se posso mettere perché questi stronzi poi mi tagliano il video è finita però volevo far vedere questa cosa qua perché lui adesso lo chiamano anche alla Rai e fa l'esperto adesso praticamente lei gli chiede come mai il Movimento 5 Stelle non fa più niente cosa è successo quello che serviva allora era semplicemente a far boccare la gente una volta che adesso devono governare tu stai zitto e loro ti piavano per culo tranquillamente e lui siccome è bravo a parlare comincia a dire dava tipo la colpa a questa entità stratta che è loro è loro è tutta colpa loro di questo mondo che siccome questo mondo del neoliberismo sta crollando piano piano questo mondo del consumismo questo mondo questo giochietto che fanno di far credere che noi stiamo facendo un cambiamento radicale ci vuole tempo in questo pezzo qua lui praticamente ci dice che noi sentiamo che c'è qualcosa che non va nel mondo però è una cosa normale che ha l'uomo questo quindi non c'è niente da fare è una cosa normalissima gli uomini desiderano intensamente ma senza sapere con esattizia che cosa ecco capito possiamo dirla così capito schiavo tu non sai senti che c'è qualcosa che non va però tu non sai cos'è lo sappiamo noi io che sono esperto ti dico che è una cosa normale se tu senti che il mondo così com'è è corrotto e c'è qualcosa che non va no va tutto benissimo noi desideriamo infinitamente non sappiamo cosa ecco questa è la connotazione dell'essenza umana prescindere da qualunque poi disposta funzioniamo così ecco è molto importante tornare ad un'analisi fenomenologica dell'essere umano fenomenologico non so se ti spiego cioè studiarci come siamo come siamo prima di cercare io sono credente tu sei non credente che facciamo un dialogo fra credenti e non credenti di che metti in dubbio insomma che anche quello che è credente forse alla fine è peggio di quello che è un non credente deve dirti che il male è bene e il bene è male cioè sappiamo di cosa parliamo quando diciamo che crediamo o non crediamo dimmelo tu dai dimmelo tu a chi Dio qualcuno ha un'idea un po' concreta esperienziale del mistero divino è un mistero divino che te credi che esiste Dio da poter dire un'assoluta certezza di credere o non credere in questa cosa che in fondo non sappiamo nemmeno molto bene cosa sia ragazzi questo è un cristiano siamo un universo ragazzi non esiste Dio ci ha creato l'universo e niente ragazzi qui ha completamente cancellato l'esistenza di Dio satana completamente satana ragazzi ma che è l'universo che ci fanno qua perché io io voi capite noi siamo l'universo siamo una forma materiale dell'universo ognuno di voi capite noi siamo nati dall'universo così una caccola inutile insignificante di questa cosa enorme che siamo l'universo invece l'universo ragazzi è stato creato da Dio come ogni cosa che vediamo è stato creato da Dio però questi vogliono farci credere che noi siamo figli del niente dell'universo cioè di una delle creazioni di Dio questo perché non vogliono accettare il fatto che Dio ha creato tutto e quindi che dicono ci ha creato l'universo spara molta c'è molta influenza così new age buddismo roba orientale in quello che dice eppure però dice di essere cristiani completamente l'opposto non è altro che una forma che l'universo ha dato a se stesso quindi una volta che tu dici che sei una cacata dell'universo un sasso così che per caso per milioni di anni è diventato un essere umano praticamente tu vedi te stesso come un niente come una caccola proprio invece quando tu capisci che noi siamo siamo stati creati con amore da chi ci ha creato tratti te stesso in un altro modo e non non arriveremo mai per esempio credere a questi clown qua riusciresti subito a individuarli e non ci cascheresti mai ognuno di voi qui non è altro che una forma che l'universo ha dato a se stesso capito è l'universo l'universo ha dato una forma ma è una forma strana perché è una forma è una forma strana siamo strani tutto scritto nella bibbia ragazzi liberatevi da questi mostri questi sono i veri terroristi ragazzi sta dando bene quando vedremo uno di voi con i capelli blu penso fra poco ti stanno bene i capelli blu tutti i desideri noi siamo pieni i desideri attenzione ragazzi nella bibbia siccome sanno che l'uomo se non attenzione se l'uomo quindi questa parte qua noi il freno dell'uomo la parte anteriore del cervello la neocorteccia quello che non c'hanno gli animali ci frena e questi freni noi ce li abbiamo scritti nei comandamenti quindi i desideri possono rendere l'uomo per esempio schiavo perché se tu ogni volta che vedi una donna e pensi solo a quello tu sei schiavo e loro vogliono renderti schiavo tutti i desideri tu praticamente devi soddisfare i tuoi desideri dice cioè l'opposto dobbiamo diventare degli animali siamo pieni i desideri vengono esauditi non è che vengono mortificati vengono esauditi capito non mortificare i desideri come fa tutte queste regole così noiose chi ci ha creato sapeva come siamo fatti ci ha detto non giocate in queste cose perché poi vi rovinerete la vita Dio aveva messo così nel cervello cioè quel piacere che ci dà un rapporto sessuale per esempio per un altro scopo noi invece siccome siamo vuoti da tutto il resto non riusciamo a trovare piacere da altre cose che non siano queste cose estreme abbiamo concentrato completamente tutta la nostra vita su cose estreme quindi droghe sesso cibo così un po' estremo diciamo alcol e altre cose e loro dicono che è una vita più bella quella ma divertiti mettiti una minigonna e vatti a divertire tingi i capelli vatti a ceretta non sei perfetto così come sei Dio non ti ha creato perfetto è questo lo scopo di questi malati di mente rovinare la creazione di Dio la nostra vita diventa più significativa diventa più divertente capito? diventa più divertente la vita diventa più creativa ecco il Cristo che anche se non crediamo fosse Dio questo divente dalla fede ma certamente era uno abbastanza sapiente diceva cercate che è un mostro il regno a prescindere ripeto che esista o non esista poi ci sarebbe un problema da affrontare no? possibile che questa cosa verso cui siamo cristiani se sei un grande devi avere il cazzeggio te devi distrarle Wittgenstein quindi è normale insomma cazzoggiare e divertirsi capito? il contrario se sei un grande devi avere il cazzeggio te devi distrarle Wittgenstein per esempio che è veramente un uomo superficiale la sera andava a vedere i film western più stupidi certo un malato di mente andava al cinema e si metteva a guardare il film western sanissimo ma certo sanissimo ragazzi i filosofi gli esperti li hanno scelti loro i malati di mente stessi dimostra di essere un genio certo invece i giorni superficiali sono quelli che leggo Roberto Eco no scusate non volevo fare no capito? chi studia sono noiosi capito? chi studia è noioso noi vogliamo che tu schiavo guardi le cazzate guardi paperissima sprint schiavo adesso non so perché mi dà nulla sta cosa lasciamo perdere non ci pensare non ci pensare a certe volte anche io non capisco perché ho fatto sta cosa la flessibilità schiavo tu devi essere flessibile you have to ban the slave magari io posso avere una struttura alienata che desidera la santità capito? uno può essere malato di mente però crede in Dio guarda qui lo sta dicendo ma la desidera in una forma alienata capito? puoi credere in Dio però se credi in Dio puoi essere anche un po' malato pensatoria non è vero non nasce dal cuore profondo in parte è una compensazione d'altro capito? tu credi in Dio perché ti manca qualcosa e quindi credi in Dio capito che malati di mente che sono adesso fa questo tipo fa un esempio di gente credente guarda li prendo in giro adesso non è una tragedia a cade si può si può curare questi arriveranno a quel punto ragazzi e tutti quelli che non sono come loro malati di mente come loro loro li cureranno ragazzi ci purificheranno ragazzi lo si vede benissimo quando una persona chiamiamola spirituale in realtà è dominato dalla paura che ce l'ho? a stare gli occhietti aperti ecco ma fa l'esempio tante sante persone anche di vita consacrata che sono rigidi come dei manichini riprende in giro prende in giro la gente educata non c'è flessibilità non c'è flessibilità quella è paura quella è paura altro che amore altro che amore l'amore fluido l'amore fluido ragazzi dobbiamo essere flessibili ragazzi dobbiamo divertirci ragazzi ragazzi tirate fuori le tette ragazzi divertimento che noia che noia la famiglia così rigida invece le famiglie devono lasciarsi come si fa oggi più flessibilità e il figlio poi è cresciuto da DRA TV in mano nostra flessibilità ragazzi i desideri i ragazzi portano alla morte qualunque essi siano capito se sono spirituali portano alla morte i desideri spirituali portano alla morte ma io andavo posso dirlo attenzione che è forte che sono posso dirlo allora lo facciamo dire al maestro ladri e prostitute vi precederanno nel regno dei cieli intanto ha preso in giro Gesù come ha detto il maestro però ancora peggio adesso adesso incita al adulterio sentiamo conviene andare con una prostituta piuttosto che magari dire un rosario a dire quanto è bravo capito ragazzi ha detto è meglio andare a prostitute piuttosto che pregare questo è un cristiano credente ragazzi è un cristiano stava in chiesa l'avete visto e spesso cita Papa Francesco un altro grande uomo e poi dice perché siamo finiti così ma guarda che roba ragazzi questo è un credente dice così mi ricordo quando conducevo il 3131 che era un programma di dialogo col pubblico dialogo col pubblico certo dialogo a senso unico la radio talvolta mi chiedevano ma lei è credente e io li fermavo e parlavo per dieci minuti e dicevo ma di che parla di che parla di che cosa si può parlare e comincia adesso con le parole satana vediamo come bravo come li sceglie proprio e se lavori in Rai non è chiaro quando mi si dice che uno è non credente perché non è vero se noi andiamo a parlare adesso dice che praticamente i non credenti sono meglio che i credenti qualunque non credente ci renderemo conto che in realtà egli crede in tantissime cose magari crede che c'è solo la materia che non esiste ma noi siamo fatti di fede non è che hanno nessuna evidenza maggiore del fatto che io creda che invece il principio della manifestazione materiale sia di ordine spirituale dobbiamo anche qui proprio riprendere il discorso ad un livello come dice giustamente antropologico io ho scritto un libro fede e rivoluzione in cui ho cercato di mostrare anche con dei documenti molto importanti di carattere che questo che sto dicendo è una riflessione che tutto il novecento ha già fatto e tu si asperti come te perché dovremmo amarci desiderare una fratellanza assoluta non è che è qualcosa di natura ecco no per voi animali no certo l'uomo è cattivo quello che vi dicono sempre ragazzi loro vi buttano un merda ti vogliono far capire che sei un niente se un bambino viene trattato male gli si dice sempre che sei un buon a nulla diventa quello che diventa se uno invece viene cresciuto con amore e tutto viene fuori in un altro modo invece loro non ti crescono con amore ragazzi loro vogliono farti credere che no tu sei cattivo questo fanno questi mostri ragazzi le abbiamo smascherati poveracci poveracci ci avete provato poveracci li abbiamo scoperto siamo meglio di voi l'amore vince sulla vostra mafia sulla vostra menzogne questa è la vostra la vostra vera faccia questa malati di mente siete siete degli schizzati lo sapeva pure Gesù immagino guarda il caso questi apostoli che non è che avessero dato grandi prove né di fede ecco capito lui adesso sta dicendo che Dio si è affidato a persone completamente non molto sane diciamo quindi sta praticamente buttando merda completamente sulla Bibbia e sull'abilità di scegliere di Dio di quello che ci ha creato proprio di colui che ci ha creato coraggio nell'intelligenza ecco li ha scelti pure stupidi Dio siccome lui era un uomo sapiente si è affidato a delle persone così fragili come noi il destino del mondo dobbiamo accettare che questo destino del mondo è messo in mani fragili abbiamo messo il destino del mondo in mani fragili quindi se l'ha fatto è anche Dio quindi accettiamo le cose così come sono ma no non bisogna cambiare e dobbiamo accettare di starci dentro ecco una lotta è una lotta tra i desideri ma è anche bella divertente fatta fino in fondo superando l'infantilismo di una certa modernità che grande ora ci troviamo grande grande risata finta si può capire la risata finta ragazzi è molto semplice ci sono parti se vedi ci sono delle parti allora il cervello è diviso in due parti c'è la parte razionale che controlla bene la maschera e quindi ride riesce a ridere però c'è la parte quella più libera che vorrebbe andarsene a casa adesso non stare in mezzo a questi coglioni che c'è lì davanti che mostra proprio l'errore ed esce fuori il risultato di questa risata la finta ecco si può notare anche qua qui ride questa parte parte sinistra ride più alzata parte destra oh mio dio che mostri che c'ho davanti quando finisce questa cosa capito ragazzi è lui l'esperto io invito sempre tutti a leggere attentamente la costituzione capito schiavi il lupo vi sta invitando a leggere la costituzione se il lupo vi dice che la costituzione è ok io insomma comincerei a avere qualche dubbio la repubblica quindi la gabbia è fondata sul noi che siamo che mangiamo alle vostre spalle e voi lavorerete c'è qualcosa che non vale diciamo dovreste cominciare davvero qualche dubbio capito la costituzione è il testo più ribelle perché è il testo più ribelle che c'è in circolazione perché parla dell'equilibrio perfetto più ribelle che c'è in circolazione ma ridimmelo un'altra volta dai perché è il testo più ribelle che c'è in circolazione questi sono i ribelli ragazzi perché parla dell'equilibrio perfetto tra schiavo e parassiti di diritti e di doveri ma quali sono i doveri di un miliardario che fa soldi con i soldi quali sono i doveri le parole ribelli della costituzione sono le parole che più danno fastidio al mondo del neoliberismo neoliberismo questo nemico astratto che si è inventato loro ci stanno liberando dal neoliberismo e vi ricordo quindi che non esiste il neoliberismo perché non è mai esistito il capitalismo è sempre stato mascherato noi abbiamo avuto che fare non con neoliberismo ma con comunismo ragazzi anzi comunismo estremo proprio e adesso sta mostrando la propria faccia che è una dittatura cominciano a censurare tutto come lo facciamo questo con la cresta questi sono i barbari ragazzi sveglia ragazzi se mi pagano vado ha detto prima sono i barbari ragazzi il nemico è interno beh mamma mia ripettilo l'ultima così chiudo con questa chiudo perché l'ho messo alla fine perché praticamente lo ammettono loro stessi stavamo semplicemente prendendovi per il culo siamo noi stessi i primi attori di questa commedia dell'equivoco che gira attorno alle parole e con questo ragazzi abbiamo smascherato anche questi altri clown ciao ciao